Ciao amore, mi hai preso uno sciroppo? Sì, per la tosse secca, per la tosse grassa, per la tosse acuta e per quella persistente. Ma quanti ne hai presi? 1. Grintus. Grintus ha una formula naturale, è indicato per il trattamento della tosse e delicato con il tuo organismo. In caso di tosse puoi provare Grintus da Avoc. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il 12 gennaio da Porcellotti Moda i saldi mettono il turbo. Tutta la moda uomo, donna, bambino è scontata del 30%. E tante collezioni fashion come Marella, Guess, Penny Black, Anthony Morato, Elena Miró, Desigual, Gantt, Timberland e tante altre ancora sono scontate del 50%. Porcellotti Moda. Tantissima scelta per vestire come vuoi. Porcellotti Moda. Terra Nuova Bracciolini di Viena e Arezzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.